Domani si vota per il Presidente, per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Si vota dalle 7 alle 23, l'eventuale ballottaggio domenica 14 giugno. A Prato sono 135.547 gli aventi diritto al voto, 64.780 uomini e 70.767 donne. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di identità. In caso di furto o di smarrimento della tessera elettorale, l'ufficio di Piazza Cardinale Nicolò è a disposizione per il duplicato. Per il rinnovo della carta di identità scaduta o persa, ci si può rivolgere all'ufficio centrale della Nagrafe in Piazza Cardinale Nicolò o agli sportelli decentrati delle circoscrizioni. Gli uffici saranno aperti domani dalle 7 alle 23. Due ai seggi allestiti all'interno dell'ospedale Santo Stefano. Ogni seggio dispone di una postazione mobile per raggiungere i degenti impossibilitati a muoversi. Gli operatori incaricati del servizio elettorale hanno consegnato a ogni ricoverato avente diritto al voto un modulo da compilare e restituire per l'invio al comune di residenza che rilascia le autorizzazioni per votare nei seggi ospedalieri. Agevolazioni per i portatori di handicap. La Misericordia offre il trasporto gratuito dalle abitazioni ai seggi elettorali e viceversa. Per usufruire del servizio occorre telefonare allo 0574 609700.